La Maratona del Cinema a Napoli è un progetto che vede unite i sei festival del cinema che si susseguiranno da settembre a dicembre. Non è altro che un accordo di promozione comune per valorizzarci tutti assieme. Ogni festival all'interno della Maratona manterrà le proprie caratteristiche e unirà, offrendosi delle partnership con gli altri, serate di promozione in comune realizzate assieme. Settembre a Napoli, si sa, è stagione di eventi, cultura, turismo, ma è soprattutto la stagione del cinema con il susseguirsi di festival e rassegne che si alternano fino a dicembre. Una Maratona di circa 80 giorni che parte il 28 con il Napoli Film Festival, aperto quest'anno dal regista napoletano Mario Martone e in programma fino al 4 ottobre. Dal 15 al 18 segue Arte Cinema, il festival internazionale di film sull'arte contemporanea. Spazio poi alla rassegna Venezia-Napoli, il cinema esteso, che dal 22 al 25 ottobre porta in città una selezione di film presentati all'ultima edizione della mostra, accompagnati da incontri con autori e protagonisti. E' steso appunto per i confini commerciali che vengono superati, per far vedere film in lingua originale, film di cinematografie lontane, film proposti a Venezia e dunque già selezionati da un grande festival, di cui far tesoro. E nella mission di continuità della Biennale questo festival ha una sua autonomia, caratterizzandosi per la scelta dei film, per l'incontro con gli autori che verranno in città. E credo che l'esperienza dei sei festival insieme sia una bella testimonianza di unicità e di unità per la città. Il tema è utilizzare il cinema per accrescere conoscenza, sapere. E credo che nessuna città come Napoli possa stabilire questo rapporto con la funzione del cinema. E credo quindi che questi festival del cinema possono sempre di più internazionalizzare anche la cultura di Napoli, oltre che portare a Napoli orizzonti e sguardi del tutto inediti su ciò che accade nel mondo e sui fenomeni culturali che caratterizzano il nostro tempo. Sono due le rassegne del mese di novembre. Dal 9 al 14 il Festival del Cinema dei Diritti Umani e dal 18 al 21 quello del cortometraggio Occurt. Il Festival del Cinema dei Diritti Umani è ormai un'istituzione a Napoli, siamo all'ottava edizione. L'obiettivo è sempre quello di rendere Napoli per quanto possibile capitale dei diritti umani, ospitando i protagonisti delle lotte e i registi, i cosiddetti filmmaker che realizzano dei film, dei documentari sulle situazioni che stanno cambiando il mondo di questi anni. La stagione del cinema, promossa dall'assessorato alla cultura su proposta del coordinamento dei festival cinematografici della Campania, si concluderà a dicembre con Omuvis, il primo festival LGBTQ del Sud Italia che parla d'amore e delle sue differenze. È un progetto sociale che riguarda la comunicazione, che quindi riguarda l'audiovisivo e riguarda la diffusione della cultura cinematografica. È un progetto che parla d'amore, l'abbiamo scoperto perché gli autori che si iscrivono al nostro festival parlano di questo tema, quindi siamo riconosciuti per questo. È l'ottimismo di questo gruppo, dell'associazione Iken e non solo di tutti quelli che sostengono questo festival, che a Napoli si può continuare a lavorare tra le tantissime difficoltà e che Napoli non è soltanto una città da cronaca nera, ma è una città anche di sogno e di desiderio per il futuro.